Stavo tornando dalla partita a Clanecli con Treviso e siamo in aeroporto a Londra, ho guardato un attimo il telefono, è arrivata la mail e ho detto, caspita. È un'emozione incredibile questa. Dai racconti di ragazzi mi hanno sempre parlato di un gran gruppo, sia giovani che con giocatori di esperienza, ben amalgamati, c'è entusiasmo nel lavoro, eccetera. Io ormai non sono neanche più tanto giovane, però credo sia un po' una buona opportunità, vista l'esperienza che ho avuto, arrivare a 30 anni, è un po' tardi, però nel mio ruolo credo di dare una certa sicurezza. Non so, sappiamo, Ugo che sta poco bene, mi hanno chiamato qui per questo, altrimenti non credo non ci sarei. Ah guarda, c'è un rispetto enorme, sia in club soprattutto, beh anche qui, ci aiutiamo a vicenda, abbiamo idee simili, c'è una sana competizione che anche questa aiuta a innalzare il livello. Non voglio immaginare, non voglio pensare, vivo il momento, mi preparo per poter essere pronto in quell'istante. Se inizio già a pensare a cosa sarà, penso sia più dura di quello che effettivamente è.